Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Aristotele individua quattro significati fondamentali dell'essere, ovvero l'essere come categorie, l'essere come atto e potenza, l'essere come accidente e l'essere come vero e falso. Cominciamo dal gruppo principale di significati dell'essere, ossia l'essere come categorie. Cosa sono le categorie? Per dirla con Aristotele, le categorie sono i supremi generi dell'essere, cioè le caratteristiche strutturali dell'essere, ovvero quelle caratteristiche che ogni essere ha e non può non avere. In sintesi, le categorie sono i modi fondamentali attraverso i quali l'essere si presenta, si manifesta. E quante sono le categorie? Le categorie sono dieci, anche se Aristotele per lo più parla di otto categorie. Forse ha raggiunto quota dieci in omaggio alla decade pitagorica. E quali sono le categorie? Allora, sostanza, qualità, quantità, azione, passione, relazione, dove, quando, avere, giacere. Fra tutte le categorie, quella che assume un rilievo centrale è indubbiamente la categoria della sostanza, in quanto tutte le altre la presuppongono e si fondano su di essa. Ad esempio, la qualità è sempre qualità di qualcosa. La quantità è sempre quantità di qualcosa. La relazione è sempre relazione fra qualcosa e qualcos'altro. Quel qualcosa è la sostanza e dunque diviene il centro di riferimento unificante delle categorie. Poi passiamo al secondo gruppo di significati dell'essere, ovvero l'essere come atto e potenza. La potenza è la possibilità di, l'attitudine a. Invece, l'atto è l'attuazione di quella possibilità, cioè la realizzazione, il compimento di quella potenzialità. Ad esempio, se io tengo gli occhi chiusi, ho la vista in potenza. E invece, se io li apro, ho la vista in atto. Oppure, il seme è una pianta in potenza. Invece, l'albero è una pianta in atto. Poi abbiamo l'essere come accidente, cioè l'essere casuale, l'essere fortuito, ciò che accade che sia. Ad esempio, è un puro caso il fatto che in questo momento io sono seduto. Potrei essere all'impiedi oppure sdraiato. L'essere accidentale, in sostanza, designa una qualità che una determinata cosa può avere o non avere, senza per questo cessare di essere quella determinata cosa. Ad esempio, Aristotele può essere biondo o bruno, può essere magro o in carne, può essere allegro o triste, senza per questo cessare di essere uomo. Poi abbiamo l'essere come vero e falso, che è proprio della mente umana, e consiste nella conformità, nell'accordo fra il pensiero e la realtà. In sostanza, si ha il vero quando la nostra mente unisce le cose come sono unite nella realtà e divide le cose come sono divise nella realtà. Il falso è l'opposto. Per esempio, se io dico Monica Bellucci e mia moglie, dico il falso, perché sto unendo le cose come non sono unite nella realtà. In altre parole, si tratta della teoria della verità come corrispondenza, per cui una teoria è vera se corrisponde alla realtà, se si adegua alla realtà. Ora, la metafisica si occupa dei primi due significati dell'essere, ovvero l'essere come categorie e l'essere come atta e potenza. Per quanto riguarda l'essere come vero e falso, esso è oggetto di studio non della metafisica ma della logica. Per quanto attiene invece all'essere come accidente, di esso non vi è scienza, perché la metafisica si occupa di connessioni logiche necessarie e non casuali, fortuite, accidentali. Grazie a tutti, anche per il like. Alla prossima!